Pier sta spiegando al cliente la nuova funzione power shift della modalità manual. Con questa il cliente ha la possibilità di assumere il controllo del motore e della trasmissione, decidendo il numero dei giri e il rapporto della trasmissione. Abbiamo introdotto una modalità speciale che consente di simulare i cambi marcia come in una trasmissione power shift. La modalità si attiva attraverso il joystick abbinato al pulsante di consenso oppure attraverso il pulsante di cambi di direzione del joystick. Spostando il joystick in avanti insieme al consenso si aumenta lo stadio power shift, tirandolo verso di sé si diminuisce. Si simulano in questo modo 13 stadi power shift fino alla massima velocità. I principali vantaggi sono una maggiore accelerazione nei primi stadi, un controllo completo della trasmissione e maggiore facilità d'uso per chi non è abituato alle trasmissioni a variazione continua.